A dieci giorni esatti dalla chiamata alle urne per gli acesi, oggi ultimissima seduta del Consiglio Comunale in via straordinaria, urgente e indifferibile per l'approvazione del conto consuntivo 2013. Toccherà al civico consesso, che ormai sta passando agli annali, aprire la sessione di bilancio che sarà portata a compimento dall'assise che uscirà fuori dalle preferenze del 25 maggio e da un eventuale ballottaggio l'8 e 9 giugno. La seduta questa sera sarà aperta dalla surroga di Camillo Baldi, con Massimiliano Trovato, formalità necessaria per ristabilire il plenum dell'aula. Il rendiconto del 2013, secondo il testo che è già stato approvato in giunta e che ha avuto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Bilancio e Finanze, prevederebbe un avanzo di amministrazione di circa 500.000 euro. Più che altro stasera bisognerà capire se la seduta consigliare sarà trasformata nell'ennesimo confronto pubblico elettorale oppure sarà una formalità di rito da espletare.